Caro Rosario, caro Fiorello, caro Saro, ma che hai combinato? Te ne sei andato da Twitter, ci hai lasciato orfani e come si fa qua? Ti prego, qua stanno commentando, stanno facendo gli ingiuci, stanno dicendo che tu devi fare il social network con Claudio Cecchetto, ma torna su Twitter che Cesare, il povero giornalaio, non vende più una copita quando te ne sei andato. E il mio barbiere sta con le flebbo, lo vedi? Si chiama pure lui Rosario, Saro Ciccatelli, qui a Giuliano in Campania, Giuliano vicino all'Europa, Giuliano che banca, che campi, diceva che lei era a Milano, devi giocare, ma è la stessa cosa. Giuliano, terra di mele a Nurche e di, aiutami, come si chiama quell'organizzazione? Non mi vede, quella cosa che spara, non c'è, non vuoi si chiama, non mi vede, Rosario, torna, torna, sta Twitter, mi aspetta a te, torna.